Ecco qui per spiegare come la materia si può riciclare, riconvertire da nociva plastica a qualcosa di inutile, immaginabile, già scoperto, già messo la bandiera, dello stato di plastica con una città isolata, esiste con il suo proprietario, non è capito la ricchezza del riciclo, soltanto un esempio, nel tutto quanto logico, materia, organica, materia, solida, materia, energia, convertire, riciclare, ecco una soluzione per curare, per politicare, per liberare, 30 secondi dopo che sei entrato, sei a posto, sano, equilibrato, chiedi quello che vuoi, scendi, è arrivato, non c'è che sognare, la scienza ci può dare, invece di servire, tutte le nazioni sono governate, da uno sbaglio, e quindi, un servono, arrivati, dopo il punto, iniziale, solo per sapere, sapere, che c'è un percorso, che c'è una strada, per superare, con la pace, per dimostrare, tutto quello che non può andare, perché la vita è la prima cosa, la libertà, negli otto punti, più importanti, nella società elettiva, ci sarà, la risposta, di come, di come, finanziare, è vero, il singolo, della ricchezza, che resta, nelle mani, garantendo, a ogni persona, un reddito, è solo, un lavoro, per quattro ore, per cinque giorni, questo, ma tutto il resto, da non più pagare, quello che dovresti avere, 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 avere,